Il TAR Lazio ha sospeso le autorizzazioni a trivellare nei fondali del Marionio. Un cordiale saluto ai gentili telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di S1 TV. Una scossa di terremoto a magnitudo 3.1 è stata registrata alle 21.17 di ieri in provincia di Cosenza, nord della città. Secondo i rilevamenti effettuati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto un ipocentro a 10 km di profondità con un epicentro a 3 km da Luzzi e a 20 km dal capoluogo. Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Cronaca, un centro scommesso e illegale è stato chiuso a Ciro Marina dalla Guardia di Finanza che ha denunciato il titolare per attività in violazione della cosiddetta legge sul Totonero. In particolare sono state trovate e sequestrate 5 ricevute di giocata, tutte seguite su un contogioco intestato al medesimo titolare del centro, ma di fatto effettuati in nome e per conto di altri soggetti. Le disposizioni sul Totonero prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il presidente della regione Mario Oliverio e l'assessore all'ambiente Antonella Rizzo nella sede della Cittadella hanno incontrato i giornalisti per illustrare i termini della sentenza del Tardellazio, la quale sospende gli effetti del decreto ministeriale che assegnava alla società Global Med il permesso di effettuare trivellazioni nei mari della Calabria. Vediamo. Noi siamo soddisfatti naturalmente perché ci siamo posti ai provvedimenti assunti dal ministro dell'ambiente che ha autorizzato la Global Med a esperire ricerche nel bacino del marionio per gli idrocarburi. Noi siamo contrari a questo tipo di iniziative e soprattutto ci siamo posti perché anche la norma modificata con la legge di stabilità che ha determinato dei vincoli, naturalmente entro le 12 miglia non è possibile esercitare iniziative di ricerca, non è possibile autorizzarle, malgrado nel mare Ionio insista un'area protetta, quella marina, che è quella di Capo Rizzuto, sono state autorizzate ricerche che appunto sono in violazione della norma. Devo dire che la prima regione che vede accolta una opposizione da parte del Tard a provvedimenti come questo assunti dal ministero dell'ambiente, questo ci riempie di soddisfazione. Noi ci siamo posti, ci opporremo, devo dire che il Consiglio regionale della Calabria al quale io ho chiesto un pronunciamento, si è pronunciata all'unanimità oltre un anno fa contro iniziative di questo tipo, a salvaguardia di una grande risorsa che è il nostro mare. Noi riteniamo che non ci può essere una iniziativa di sfruttamento appunto di questo tipo, di idrocarburi eccetera, che prescinda da quella che sono i necessari vincoli di rispetto ambientale, di compatibilità ambientale, perché la risorsa del mare è una risorsa che è fondamentale per lo sviluppo di un territorio, di una vasta area, non solo la nostra regione ma l'intero bacino che insiste sul mare Ionio in questo caso, che appunto è un bacino strategico per lo sviluppo del nostro paese, perché è un bacino di particolare valenza ambientale, di biodiversità, paesaggistico, che valori e risorse che costituiscono un punto di notevole forza per uno sviluppo sostenibile. Noi abbiamo una linea netta, chiara in tal senso, la nostra non è una opposizione ideologica, è una posizione che scaturisce da una valutazione oggettiva. Noi ci siamo opposti in passato, ci siamo opposti oggi con questa iniziativa, continueremo ad opporci con tutte le nostre forze. Chiediamo alla luce di questo pronunciamento del TAR che ha accolto la sospensiva, la cui udienza di merito è fissata per il 25 ottobre, chiediamo prima di arrivare alla udienza del 25 ottobre, che il Ministero dell'Ambiente riveda questi provvedimenti, perché una soluzione politico-istituzionale, prima ancora che la conferma in sede di merito di un pronunciamento da parte del Tribunale Amministrativo, sarebbe sicuramente un fatto importante e positivo, è un segnale positivo rispetto appunto alla posizione delle regioni, degli antilocali e delle popolazioni di un vasto territorio, quale è quello calabrese e meridionale. Un confronto politico è importantissimo, soprattutto per quanto riguarda la reintroduzione del piano delle aree, che doveva essere previsto già dall'articolo 38 dello Sblocco Italia, ma che invece non è stato reintrodotto. Anche da questo punto di vista ci sarà un'attività forte del Consiglio regionale, ma naturalmente un confronto sul piano politico, proprio per addivinire a una reintroduzione della potestà legislativa delle regioni e in maniera particolare della regione Calabria nel campo energetico e della programmazione anche degli idrocarburi in generale, ma soprattutto delle trivellazioni in questo caso. E poi naturalmente questa è una sentenza che non ci coglie di sorpresa, perché abbiamo costruito questo ricorso, proprio partendo dal presupposto che noi abbiamo l'area marina protetta caporizzuto, che è un'eccellenza non solo per la regione Calabria, ma per l'intera Europa, e quindi con l'ufficio legale della regione Calabria noi abbiamo costruito questo ricorso partendo dal presupposto che le 12 miglia debbano partire dalla limite estremo dell'area marina protetta. Così non è stato e il Tarlazio ci ha dato ragione in questo senso. Adesso noi aspettiamo fiduciosi l'accoglimento delle nostre osservazioni anche nel merito del 25 ottobre. Un progetto che sappia esprimere con originalità i concetti di sostenibilità, ambiente e tradizione, innovazione e sviluppo, condivisione e senso di comunità. In questi termini è stato presentato il concorso di idee Naturium Lab nel corso di una partecipata manifestazione che si è svolta presso l'Istituto Tecnico Marafarina di Soverato. Un'iniziativa che nasce grazie alla passione e all'impegno di un imprenditore privato, Giovanni Sgro. Patrocinato dall'Ordine degli Architetti di Catanzaro, il concorso di idee propone la rifunzionalizzazione di un edificio già esistente a Monte Paone Lido e tre premi per complessivi 6.500 euro che andranno a gratificare i professionisti più meritevoli in linea con la filosofia del progetto culturale Naturium. I particolari in questo servizio. Siamo questa sera qui all'Istituto Malafarina di Soverato e mi trovo con il direttore generale Simone Molteni della LifeGate. Di cosa si vuole parlare questa sera? Questa sera viene presentato un concorso per un nuovo progetto, un concorso di idee per il progetto di un nuovo centro polifunzionale che serva a fare un po' da vetrina o da showroom diciamo di prodotti di eccellenza della Calabria. Sarà sia un centro polifunzionale ma anche centro commerciale? Sì, però dove la parte commerciale ha sempre una importante valenza valoriale diciamo per far scoprire quelle che sono le eccellenze della Calabria in particolare in ambito di cibo ma non solo per raccontare il territorio, quindi farlo vedere e farlo provare come esperienza. Quindi ci saranno delle, se i progetti poi degli architetti lo confermeranno, ci saranno delle parti in cui si possono vedere dei filmati, in cui si possono provare, in cui si può mangiare ma in cui si possono fare proprio delle esperienze che vanno dalla mostra fotografica a un'esperienza di teatro per esempio che raccontino il territorio. Ecco, visto che sarà un concorso ci sarà un premio per il progetto più bello? Sì, a oggi vengono chiamati, viene presentato, diciamo aperto questo bando, aperto il concorso e con dei premi, ci sono 6.500 euro di Montepremi. Noi come LifeGate che ci occupiamo di sostenibilità diamo una mano a raccontare questo progetto e diamo il nostro applauso all'imprenditore che ha deciso di lanciarlo perché troviamo che questa sia la direzione su cui l'Italia deve puntare, quella di far scoprire le proprie ricchezze, le proprie eccellenze per attirare anche un turismo di questo tipo e di questo livello. Siamo qui con Giannis Gros, promotore di questa iniziativa per il concorso di idee per la realizzazione di un centro polifunzionale e commerciale. La funzione è quella di far conoscere i prodotti tipici del nostro territorio e quindi anche di tutta la Calabria. Sì, sarà un centro polivalente che avrà una funzione commerciale per la parte superiore e poi c'è una funzione culturale nella parte inferiore. Saranno 2.400 metri totali e stiamo cercando appunto con gli architetti che concorreranno a questo bando, di organizzare gli spazi al fine di utilizzare bene per le attività che andremo a fare che saranno attività di grande valenza culturale perché faremo promozione dei prodotti ma saremo promozione di cultura civica quindi un centro educational dove si lavorerà sia per l'educazione alimentare sia per l'educazione ambientale. Il centro sorgerà a Montepaone, si sa già la zona? È già stata vista? Sì, il posto è già costruito perché è un fabbricato che insiste nella zona vicino al centro commerciale Levele. È una bellissima struttura, oggi ancora da finire. Naturalmente quest'idea progettuale avrà un seguito se appunto gli spazi ci permetteranno di realizzare questo nostro sogno che è un sogno un po' di tutti i produttori calabresi. Questa sera si parla appunto di questa costruzione del centro polifunzionale e l'ordine degli architetti come intende contribuire? Allora, l'ordine è già contribuito riconoscendogli il patrocinio e mettendosi a disposizione dell'imprenditore Giovanni Sgro che in questo caso è un imprenditore avveduto perché sta percorrendo degli scenari nuovi per il mondo della rigenerazione urbana. Da imprenditore ci ha coinvolto per cercare di mettere in moto un sistema di confronto tra professionisti per sviluppare delle idee innovative sul recupero dei fabbricati esistenti e quindi del patrimonio edilizio che già esiste. Questa attività è stata sostenuta da noi perché mira a rigenerare anziché consumare nuovo suolo. La sfida del futuro è quello di recuperare nuove funzioni sull'esistente e non continuare a consumare risorse importanti sia per le città sia per il territorio. In più si riesce con questa attività di recupero e di riproposizione anche funzionale a dare dei contenuti nuovi ai tanti fabbricati e al patrimonio edilizio che già in maniera consistente ha occupato quasi tutte le coste della Calabria. Intanto bisogna davvero fare i complimenti a chi ha avuto un'idea del genere. È un'idea fortemente innovativa ma fortemente sinergica perché creerà le condizioni affinché alcuni produttori si possano incontrare e si possano incontrare per fare non solo massa critica ma soprattutto per aumentare i livelli qualitativi delle loro produzioni. Si tratta in modo particolare di aziende che trattano l'agri-food. La Regione Calabria sta investendo molto in questo campo. Anche ieri il Presidente Mario Oliverio ha parlato di questo durante gli incontri della BIT di Milano perché bisogna davvero pensare in grande, pensare che la Calabria è turismo ma è una Calabria che eccelle soprattutto per le sue produzioni agroalimentari. Quindi un grande fattore di attrazione è questo e noi siamo in campo con una serie di progettualità e di azioni da intraprendere assieme ai produttori per incentivarli in questi percorsi. Quindi la Regione Calabria sta portando avanti delle collaborazioni con tutti gli imprenditori anche perché Calabria, terra anche di disoccupazione ma anche di agricoltura in questa maniera si potrebbe creare anche qualche posto di lavoro? Naturalmente ma bisogna sempre seguire uno spirito di intraprendenza e questa di Naturium Lab credo che sia davvero un'occasione da cogliere una di quelle cose che si verificano nella Calabria migliore. Anche la stampa ci sta dando molto spazio in questo. Grande risalto un articolo di Panorama uscito proprio ieri che ci considera una di quelle regioni emergenti e che possono fare molto grazie alle sue tipicità grazie alla diversità anche di queste tipicità che conserviamo e produciamo. Una nuovissima stroke unit con quattro posti per il trattamento di trombolisi entro le tre ore dall'ictus ischemico ma anche due rinnovati reparti di neurologia ostetricia e ginecologia universitaria sono stati inaugurati dall'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro. Una nuovissima stroke unit con quattro posti per il trattamento di trombolisi entro le tre ore dell'ictus ischemico ma anche due rinnovati reparti di neurologia e ostetricia e ginecologia universitaria sono stati inaugurati dall'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro. Un momento di legittima emozione e anche di grande prestigio professionale. Prestigio ma principalmente di soddisfazione devo dire. Soddisfazione perché finalmente dopo tanti anni vediamo ancora nato un sogno che è quello di avere un reparto degno di tale nome. Fino ad ora abbiamo vissuto, parliamo dei pazienti ma parliamo principalmente anche degli operatori perché non dobbiamo dimenticare che gli operatori sono quelli che stanno tutti i giorni in un reparto che fino ad ora è stato veramente fatisciente. Quindi vedere realizzato questo sogno per noi è una cosa bellissima ed è una cosa importantissima. Questo dobbiamo rendere merito principalmente a delle figure professionali e principalmente al professore Quattrone, il nostro rettore dell'università e a Domenico Consoli che ci hanno aiutato e supportato per quanto riguarda la realizzazione ma per quanto riguarda anche l'aggiornamento professionale. I miei vantaggi reali sono dei monitor che sono all'avanguardia e che ci permettono di controllare il paziente minuto per minuto ci permettono di vedere tutti quelli che sono i parametri vitali ci permettono di osservare se nel tempo si formano delle alterazioni nel paziente stesso quindi ci avvertono immediatamente con degli allarmi e noi siamo pronti per risolvere la situazione. E poi c'è un altro momento delicato che è quello della Stroke Unit che parte da lontano e che oggi assieme alla neurologia vede finalmente il suo taglio di nastro. Sì, infatti è veramente la realtà questa. Io appunto voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato insieme a noi affinché si realizzasse appunto come diceva il dottore Canistra questo sogno, questo percorso molto difficoltoso ma alla fine ci porta a dare alla cittadinanza, a tutti i cittadini un'opportunità terapeutica nuova ma non tanto perché in Italia è da molto tempo che si fa, nel mondo ancora di più ma finalmente anche a Catanzaro i cittadini possono avere l'opportunità di essere trattati con un metodo estremamente innovativo che può garantire meno malati sul territorio più gente che sta bene e quindi grazie e grazie a tutti noi abbiamo bisogno di altre figure professionali di altre unità operative che lavorano in team un team multidisciplinare per competenze e per abilità mediche noi abbiamo la radiologia, il pronto soccorso, il 118 ci freggiamo anche di avere la neurochirurgia qui in sede quindi per quelle che possono essere le complicanze per i pazienti ma tutte queste realtà devono lavorare tutte insieme non per ultima la riabilitazione che è un momento estremamente importante nel momento in cui il paziente viene dimesso perché non viene lasciato solo a casa ma ha un percorso costruito appositamente per lui, per ogni paziente, per ogni singolo paziente in modo individuale per raggiungere un equilibrio e un'opportunità diciamo dinamica nella vita quotidiana C'è una figura professionale basilare in ogni reparto ma forse ancora di più in quello delicatissimo della neurologia quali compiti assolve, quali sono le problematiche che affronta? Ebbè chiaramente l'assistenza al paziente che subisce una drombolisi nella strocca uniti necessita 24 ore su 24 della presenza di un infermiere professionale che sta lì a misurare tutti quelli che sono i parametri vitali devo essere molto felice per l'inaugurazione di questa strocca a Catanzaro in quanto era molto strano che la città capoluogo della regione Calabria non avesse la strocca uniti quando era presente in diversi luoghi non molto importanti quanto la città di Catanzaro per cui credo che sia un momento molto importante per la giornata di oggi e per il futuro della sanità calabrese Il reparto ha una superficie di 400 metri quadri ed è diviso in tre aree accesso ed amministrazione, degenza, infermieristica e spazi di gestione attività subintensiva in totale può accogliere 15 posti letto di cui 4 nella strocca unit Ostetricia e ginecologia occupa uno spazio uguale 450 metri quadri divisi in accesso ed amministrazione attività di degenza, infermieristica e spazi di gestione può accogliere 19 posti letto un reparto di grande importanza medico-scientifica ma anche politica nel senso che da anni è pioniere del processo di integrazione attiva tra l'ospedale e l'università Magna Grecia costituendone l'aspetto più virtuoso Dopo tanti anni è venuto anche il turno dell'ossatrice della ginecologia per la ristrutturazione degli spazi alberghieri e questo è un riconoscimento bellissimo alla qualità e quantità del nostro lavoro che è riconosciuto non solo nelle varie province di questa regione ma anche fuori regione come uno dei centri di assoluto rilievo nazionale e questa cosa, come dire, di avere ormai un gruppo in assoluta armonia con gli ospedalieri le componenti universitarie docenti specializzanti ma gli infermieri, le ostetriche che sentono l'orgoglio di appartenenza e questa è la cosa più bella in un reparto ospedaliero noi abbiamo avuto anche la nostra caposala Anna Romano che purtroppo oggi non è qui per un problema familiare che ha curato e ha seguito questa ristrutturazione come quella di casa sua anzi forse con più affetto di quella di casa sua i risultati si vedono i risultati si vedono perché ci vuole sempre la mano di una persona che sente propria la casa da ristrutturare veramente è un momento di gioia spero sia solo il primo perché per quanto siamo arrivati ultimi come ristrutturazione ma abbiamo ancora due o tre pezzi importanti il centro di fecondazione assistita che questa regione aspetta da tanti anni con finanziamenti che risalgono a 3-4 gestioni commissariali addietro gli spazi ambulatoriali e questa armonia e senso di appartenenza di tutto il personale è veramente la chiave della qualità e della quantità della nostra attività assistenziale Per il centro di fecondazione che tempi si attende? Dovremmo essere abbastanza vicini perché la parte muraria di base è stata già completata per cui se c'è il nostro direttore Panella che ha preso di petto il dipartimento materno infantile nella messa a regime ci dà un input finale le tecnologie e le professionalità le abbiamo già a disposizione quindi è veramente questione di poco anche su questo versante Bene, con questa ultima nota di positività sanitaria si conclude qui il nostro TG come sempre grazie di averci preferito l'appuntamento alle prossime edizioni Arrivederci Grazie a tutti